Viola il domicilio della ex e la minaccia. 37enne denunciato dalla questura di Vicenza. L'uomo si era introdotto nell'abitazione dell'ex compagna e aveva cominciato a compiere atti di autolesionismo afferendosi con un coltello in preda allo stato di agitazione anche in presenza degli stessi agenti. Il 37enne, mentre veniva allontanato dalla polizia, minacciava l'ex compagna di morte facendo di fatto scattare il codice rosso anche perché poche ore prima aveva fatto analoga minaccia ad un tabaccaio in zona Riviera Berica. Il 37enne, in evidente stato di alterazione, diventava altresì un pericolo passeggiando lungo il margine della careggiata. Veniva pertanto trasportato presso l'ospedale San Bortolo per accertamenti.